Eme dove sei? Eme sono qua, guarda sono arrivati i mobili, dove dove? Arrivo, arrivo, arrivo signor capitano, arrivo, questa casa pare un labirinto, ok, grazie Eme, eccomi qua Eme, eccoli, eccoli, grazie, mamma mia, vediamo un po' cosa ci sta all'interno Delle sedie, i computer, i computer, i figuriferi, le sedie, ho preso anche le cose da gaming, mamma mia, abbiamo arrivato, e comunque ragazzi con me avevamo promesso, nell'ultimo video, che è passato un po' di tempo, come avevamo promesso, avevamo detto che compravamo i mobili E abbiamo fatto Sì, io ho fatto un po' di tempo, ma quanto ci sono arrivati i mobili, andiamoli subito a montare Ma quanto ci sono costati tutti i mobili, i computer, la cosa? Eee, ti ho fatto un regalo, ho pagato io, sono andato in banca, giusto solo perché Ve lo avevi detto l'ultima volta Dovevo, dovevo pagare i mobili comunque Ok Mi dai il computer, mi dai il computer, mi dai il computer, mi dai il computer Metti il frigorifero qui, metti il frigorifero qui Mettiamo il frigorifero Mettiamo il frigorifero E' la madonna Ci sta anche il micap all'interno, puoi fare le torte, wow Che figo Ok Poi questo lo mettiamo qua per rivoluzione Ah sì, è una specie di pianta, non lo so Questa pianta è un frigorifero Questo è un frigorifero E' un frigorifero E' un frigorifero Aspetta, forse ho sbagliato Il frigorifero qua Ok Allora Questo vabbè Non lo so perché potremmo servire Questo è un altro frigorifero Non è una casa E' una gelateria quasi O una macelleria Sì E' vero Poi Visto Il frigorifero Il lavandino Vabbè Il lavandino già c'era Adesso metti un po' di quadri Delle sedie Come qua Togli questi Togli il mobile Sì Io devo Sì è giusta Che è una dritta Ah comunque hai visto il telegiornale Si l'ha visto No in realtà non l'avrei visto Cosa ha detto Eme? Questa è un killer Un killer Ma allora questo messaggio si potrebbe collegare a killer allora Ti ricordi questo messaggio? Sì Sì Un po' mi sa che sulla roba dell'altra volta era fai fatto Mi sa che era ketchup Ma non era sangue perché Allora quello era il sangue in quella casa laggiù Che poi erano tanto Non lo so Comunque il libro puoi riprenderselo anche Vabbè Ho chiaro ripreso il libro Lo lo metto anche nell'inventare Sì intanto mi piglio No Ma Un po' di mela perché ho molta fame Bravo Io mi verse Mangio qualche pane Stai Sì Il mio computer è mè e lo potremmo mettere di sopra E ora mettiamo la televisione La televisione non può mancare sennò cosa ci dovremmo vedere più un abbonamento netflix infine che se guarda c'è anche la playstation se la vuoi no aspetta non è messa male aia già sto perdendo cuori ce l'ho io ce l'ho io me la prendo per mettere in camera mia come faccio a registrare i video e fare live aspetta se ho in camera tua ti metto con la ps non ho un'idea un'ideona in una casa ovviamente non può mancare bellissimo e comodissimo divano quindi se non mettiamo in questo divano di legno scomodissimo che se no mi fanno in questo divano mi ha solo fatto tantissimi guai per esempio mi ha scheggiato mi ha scheggiato la schiena bellissimo ma così faccia chiedermi c'è lei signore me ci sta anche il rai così si potremmo vedere non so altra sarebbe seri la rai la rai non può mancare siamo messi male ho messo qualcosa fuori dalla finestra scusate lo vedo bene, lo vedo bene non lo so cos'è voglio vedere c'è, era zippuntissima, non lo so io non bevo nulla vabbè, qua abbiamo il tipico bagno te lo saresti immaginato? dovremmo non dare una punta perché se no se no fare una cassa bucata o una cassa carita allora, poi lo scottiamo qua e ti metto un altro comodissimo letto che bello bellissimo io ho due televisioni da mettere in camera allora ho già in mente perché già volevo fare una postazione da king e quali sarà il tuo sgabucino? e se questa cantina ci divertiremo a chiudere le persone cattive o i bambini non lo so dimmi, intanto metto i pacchini che ho preso ma cosa ti sa? e l'amadonna allora la nostra casa diventa amazon non si dice amazon capito bene allora nella camera da letto c'è il letto matrimoniale vabbè e quindi la televisione dovemmo togliere un po' ma ancora ho visto un'altra persona pure dalla finestra ma io non vedo nessuna teleimmagine delle persone ma cosa ti bevi la sera? ti giuro c'è una persona te la saresti immaginata allora io smonto un po' la biblioteca ok di libri ne abbiamo ne abbiamo mille ho preso i libri mamma mia tanto questi libri io vado ad avvicinare questi libri non ci interessano più tanto la scuola è finita ti sluggiamo i libri ok il telefono non ce l'ho comunque vabbè non li avvicinare l'oggi sentiamo dopo ok ah intanto che io metto i libri a post questa la rimane perché non so neanche che fermene come ho detto prima vabbè qua ci metto anche una sedia da che mi incomoda in modo che il guaio diventa enorme se no non voglio fare dei lavori in limpiadi allora comincio già a mettere una televisione proprio qui aia cosa è successo? ehi me ehi me mi è successa una cosa dove sei? eh si non so chi è? non sono tranquillo andiamo subito a vedere ehi me ehi me mi è successa una cosa non lo so mi escono delle bollicine neri vieni a casa non lo so cosa sono no ma cos'è 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 arrivo subito vieni che ti aspetto sono morendo mi sento mi sento morire aiuto aiuto ma cosa succede vieni a casa aspetta ma cosa sono a casa sto arrivando ti apro anche la porta cosa succede? non sto bene mi aiuta ma come è l'inserti ho comprato delle medicine? fammi vedere vieni mangia una mela che ti cura una mela toglie un medico dittorno meno male che la mela toglie un medico dittorno una mela al giorno toglie ok ho non usato sono sono molto buone sono molto buone ok ora ti dovrebbe passare sono andato in farmacia e la farmacia mi ha dato questo sto qua al video grazie per le mie leme sono molto buone comunque l'user dimmi di me io devo allora siccome prima non mi hai dato tempo sono dovuto venire da te perché non stavi bene io devo andare a fare la spesa ok ti dico che se succede qualcosa chiamami al telefono ok ci vediamo dopo eme ciao sì ciao quindi staremo a casa da soli vabbè io stavo montando il mio com sì no il mio computer ma la mia televisione stavo già cominciando a fare le basse della mia impostazione da prendere che nascerà mai man mano ok l'ho messa però un po' al contrario ma vabbè vabbè poi è qui metterò un bellissimo tavolo un computer ormai è sera ma dove è finito mi sto preoccupando ragazzi mi sto preoccupando andiamo a vedere andiamo a vedere chi sono dove sei chi è chi è non mi fare non mi fare aprire quella porta chi sei chi è un cartello eme eme scappa eme c'è un pazzo un maniaco che mi vuole uccidere aiuta che devo fare cosa succede c'è un pazzo in casa che vuole entrare oh come un pazzo in casa non a casa eme mi occupo io io signor signor signore è meglio che non avvicini a quella porta perché ho dei libri che le facciano proprio male via brutto stupido tieni aia aia il coltello il coltello fa male aia aia aiuto non ho dei blocchi aiuto non so dove ne scondimi che succede come sto arrivando chiama la polizia eme chiama la polizia chiama la polizia da parola al polizia pronto polizia si che giovane ha acquistato a casa del mio amico vuole uccidere non so io comunque se lo vedo gli do una personata ok se lo vedo e vi do non posso non è in testa meno male che stupido questo killer secondo me a scuola era proprio un anotino aia però quel killer mi ha dato una botte sacchiratissima eccomi gli do una porta in testa eme sei tu un killer mi ha fatto male guarda sto sanguinando eme sto sanguinando sto sanguinando ora mi sento molto bene ma che cosa come ha fatto quel killer a capire dove abito comunque mi sta poi hai un tabolo e una sedia e anche una sedia da gaming con computer stavo mettendo il computer in camera guarda guarda questa notte ho un'idea farai farai pagherai qualcuna per fare la guardia no cosa farai chiamerai un polizietto del quartiere ho caricato la forza nel modo migliore con le piante dici metto anche un letto non so cosa voleva quel killer da me ragazzi vuoi che sarei dando questa idea secondo voi cosa voleva che è il killer da me e da Amy e me non c'era quel killer mi ha fatto male cioè mi sta sombrinando la plastica aprite la porta siamo i carabinieri chi va là un carabiniere a me sembra più una gente pena comunque entra entra ma che ci fa quest'ora della notte ho ricevuto una chiamata dal signor emerald e mi ha detto che è venuto un killer in casa sua non so cosa voleva signor carabiniere non so cosa voleva da me signor carabiniere ci sono le ore 5 allora questo crimine che è stato allora io per cui questo crimine è il sospeso allora signor Luca ha visto Sì, è proprio così E mamma mi ha speso questo, diciamo, crimine E verrò a dindagare la prossima volta, ok? Lei come si chiama, giusto per sapere? Allora L'irrò a dindagare la prossima volta Lei è il carabinieri del quartiere Arrivederci, carabinieri del quartiere Che persona simpatica È meglio che io vada a letto Domani sarà un'altra lunga giornata Anche se No, user, sono Pamerad Ti sto chiamando per dirti che io vado a casa mia Sì, ci vediamo domani Sono molto stanco E quindi mi è tranquilla Buon anno insieme Saluto, vorrei salutare un favore Paragastica, la sua di multinazionale Che voi costruire Grazie 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 Grazie